Benvenuti in questo nuovo video Allora, ciao Allora, questa è la mia cameretta Sì, al momento non c'è il robot perché siamo andati Al momento non c'entriamo perché sennò non c'entriamo Aspettate, ok perfetto Ok, allora andiamo a completare il nostro acquario E poi vi faccio... no, 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 dopo l'ho completo Ah, questa è una bellissima piscina Bella, è una piscina Allora, questa è la spa per i bambini No, in verità questa è una spaetta Questa è una piscina Quindi c'è la spa e una piscina Allora, vai a dormire a casa mia va Allora, vi faccio guardare la fontana Allora, domani vi faccio vedere tutto Intanto andiamo a dormire perché l'indomani di Minecraft ci vi faccio vedere tutto Perché questa è la casa mia È casa di una mia amica che sta Ora ti ammazzo se non lo ripari subito No, stava parlando una mia amica Ok Ora te mi fai tutto il pavimento perfetto No, non ti faccio il pavimento Allora, non ti faccio il pavimento, non ti faccio la costruzione Allora, vi faccio vedere Delle cosine L'orto dobbiamo fare Giusto Allora, questo è il negozio di vestiti Che l'ho fatto io Che io compro sempre le cose qui E questi sono i diamanti che prendiamo il giorno E con la guadagno io ti diamanti E poi gli saldimo l'idea per fare la spesa che ancora non abbiamo finito il supermarket Perché Emanuele è uno schmuniter non riesce a finirlo in tempo Vero Sto scherzando Noi finiamo sempre tutto in tempo Questo è il supermarket Sto scherzando Questo è il supermarket E stasando perché io ero diventata il robot e non riuscivo a fare niente E' bello Allora, questa è la stanza del robot Aspetta Ok, questa è la stanza I maiali I maiali Martina, ma perché non stai là? Qua ci sono gli acquari Qua ci sono i capelli Qua c'era la stanza del robot E qua E qua c'è la cassa La cassa Non l'ho visto Però ci sono dei 55 diamanti Che è una mia amica Se l'hai rubata di tutti Che non è vero Se l'hai rubata di tutti Il 64 Soprattutto che sono spuntati di 55 E gli altri 9 mi sono scompati Forse se l'hai presi Manu No, Manu era a fare il negozio Cioè mi sono proprio scompati Li avevo Ti volevo fare uno scherzo e poi mettevo la cosa Questo Invece mi sono scompati Allora, questo è l'acqua Ma c'è la riva Questo è il nostro Sì, là c'è 3 a 2 3 a 2 Uv Uv Aspettate ragazzi Che qua è una mia amica Secondo Un po' Eh sì Però non ci sono quelli che ci giocano Ma perché non ci sono? Ci sono C'è tutto un angolo riservato all'aiuto Ci vorrei essere Ci vorrei essere Ci sono Allora Siete pronti Per carvi vedere La cosa finale È la cosa più bella È la cosa degli Axolot Che hanno fatto vedere? Non è vero Non è vero Allora Scrivete nei commenti se l'avete visto o meno Perché la mia amica dubbia Perché stavo guardando la partita di calcio Allora mi piaceva vedere la stanza di robot Di Lisa Robot Che poi dovresti essere te il robot Questa è l'altra stanza Questa dovrebbe essere tipo la stanza dietro Dentro Non ti chiudere Scrivita Perché? Perché se no non puoi più uscire Ecco non puoi più uscire Io rompo tutto Tanto Che se ne friga Ora li metto Non mi preoccupate Non sono una sporcacciona Come la mia amica Lisa Che è sbocca da tutte le parti Guardate casa vostra Guardate casa di Lisa Guardate casa di Lisa Vabbè io non ho avuto il tempo per arredarla La tua minuscola Con conta la mia Guardate Guardate che sbocca Guardate I blocchi non li avevo messi Mi sa che li ho messi in mano Tutti i blocchi qui Li ho messi in mano Guardate che sbocca Guardate che sbocca Sbocca Guardate pure Volete vedere il mio Xolo Ok questa è una scala invisibile Ci sale Ah dovevo fare il trampolino Allora Sì sì Prima Lo faccio io No lo faccio io Non lo faccio io Ma lo faccio io Ma lo faccio io Non posso Cosa Sbocca Capì Capì Per favore Che c'è Per favore Che vuoi Che cosa ti prego Che vuoi Vattene a letto Vattene a lavare No no vattene a lavare Basta Basta Togli le mani Togli le mani Togli le mani Basta per stasera Basta Il mio telefono Non te lo faccio vedere più Te lo sto dicendo Che sto dicendo È il mio telefono Ma la posa